Avete presente quando vi convincete di avere dei poteri sovranaturali perché dal nulla in una discussione, un filone di pensiero arrivate a qualcosa che vi raggiunge in maniera totalmente inaspettata ma poi quella stessa cosa di cui nessuno sta parlando in quel momento della quale non si ha più notizia da un sacco di tempo riemerge improvvisamente Ecco, domenica scorsa, come a chiunque capiterà in questo periodo stavo parlando con qualcuno della guerra in Ucraina quindi della Russia, quindi della vicinanza che per molto tempo c'è stata, dispetto di tutto tra il nostro paese e Putin E poi mi sono ricordato di lui Vi dice niente? Questo è Walter Biot che, se non sbaglio, un anno fa quando coprimo la storia nemmeno citammo per nome, ma potrei sbagliarmi È comunque più facile che ve lo ricordiate come il militare di Roma, alto in grado tanto da avere accesso a documenti segreti della Nato che era stato arrestato in un parcheggio del quartiere romano di Spinaceto mentre cercava di consegnare una scheda di memoria con delle fotografie di documenti per ora, rimasti segreti ad un militare russo distanza l'ambasciata di Roma E al dispetto del fatto che mi sia tornato in mente proprio domenica e abbia letteralmente pronunciato la frase devo informarmi su come è andata a finire quella storia lunedì si è ricominciato a parlare di lui sulla stampa nazionale perché inizia il processo a suo carico e il militare è accusato di vari reati tutti vagamente attinenti a un tema cioè lo spionaggio la storia al tempo era emersa come un po' patetica se vogliamo il militare alto in grado che vende informazioni a un paese avversario per mantenere il suo alto standard di vita e benché ancora non ci siano condanne quindi chi lo sa nel dibattito pubblico oltre ai giustificazionismi vari del tutti hanno famiglia è emerso il vecchio scontro tra chi provava e prova tuttora ad inquadrare la Russia come un paese amico pericolosa solo se provocata quindi una sorta di orso buono da non svegliare mai e chi invece non solo evidenziava la gravità del vendere informazioni al paese che giustifica l'esistenza della Nato il paese dal quale devi difenderti ma inquadrava il discorso in tutta una serie di altri eventi premonitori le sotture di campanelli d'allarme sempre mai prese in considerazione che mostravano che qualcosa non fosse ok riprendiamo uno tra tanti di quelli che citiamo spesso e osservate come la storia appaia a tinte più fosche ora che la ripercorriamo sapendo quello che ora sappiamo su Putin due anni fa dopo una telefonata tra lui e il leader russo l'allora premier Giuseppe Conte aveva consentito l'arrivo in Italia di aiuti dalla Russia per far fronte alla crisi del covid aiuti che velocemente grazie all'inchiesta della stampa emersero come sostanzialmente inutili ma parte di un'operazione di propaganda e di influenza diretta dall'intelligence russa dal GRU e a guidarla peraltro un generale russo Sergei Kikot cioè lo stesso incaricato dal Cremlino di difendere il dittatore Assad il dittatore siriano nel processo Allahia per l'accusare di aver usato gas sui civili ovviamente negandone l'utilizzo quindi benone la stampa fece queste scoperte il portavoce del ministero della difesa russo minacciò la stampa dicendole che chi si scava la fossa ci finisce dentro e ci fu una grande indignazione nell'opinione pubblica attorno a questa cosa ma non nel governo perché Conte quando fu poi raggiunto dalla BBC che richiese il conto della possibilità che la Russia ci stesse in qualche modo usando disse che la sola idea che dietro alle azioni russe ci potessero essere dietrologie non solo era un'offesa per il governo italiano ma era un'offesa per Putin lo decise lui così fece le veci di Putin in quel momento si vede anche che si infastidisce quando il giornalista gli fa quella domanda contrae la mascella in qualche modo insomma cosa voglio dire dove voglio andare a parare parlando di spie russe militari arrestati operazioni di propaganda e contatti con i governi italiani al fatto che le cose non cadono dal cielo non sta succedendo nulla di così fuori dal mondo i prodromi c'erano tutti a guardare bene e che tante volte non guardiamo con abbastanza attenzione bentornati su Breaking Italy lunedì c'è stato un incontro di sette ore tra Jake Sullivan il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale e Yang Jiechi il direttore della commissione cinese per gli esteri e questo incontro si è tenuto tra le città possibili a Roma per quanto fosse pianificato da mesi questo incontro ha fatto molto parlare di sé perché si è svolto successivamente la diffusione di una notizia che ha allarmato molti di noi nel weekend cioè che la Russia ovviamente nell'ottica di questo conflitto tra lei e l'Ucraina ma soprattutto tra lei e l'Occidente avrebbe chiesto aiuto economico e militare alla Cina per quanto poi e va detto le testate che hanno riportato la notizia abbiano voluto specificare si trattasse di informazioni diffuse da alcuni ufficiali statunitensi e infatti sia Russia che Cina avrebbero negato che questa cosa stia succedendo ma detto questo quali sono stati i risultati di questo incontro? per quanto come accennato si sia trattato più di un confronto che di una sessione di trattative alcuni funzionali di Washington hanno parlato delle proprie impressioni sulla linea politica cinese esprimendo un certo pessimismo e un certo scetticismo sulla possibilità che Pechino si allontani da una linea comune con Mosca e che anzi questi contatti potrebbero intensificarsi dando corpo alla convinzione statunitense che la Cina abbia già detto di sì in realtà a eventuali aiuti economici verso la Russia e che a questo punto l'unico dubbio ancora in essere sarebbe legato non al fornimento di aiuti economici ma militari e questo sarebbe ancora incerto ovviamente sia chiaro questo lo sto dicendo io entrambe le cose sono gravi ma sono due cose completamente distinte una sarebbe aiutare un paese a sopravvivere alle sanzioni che comunque delinea già una posizione politica abbastanza chiara considerato che la Cina non è salita a bordo di questa corda a tono occidentale un'altra cosa è fornire armamenti e prendere parte seppur indirettamente al conflitto così come stiamo facendo noi in Ucraina peraltro non è il miglior momento possibile per i rapporti Cina-Stati Uniti e infatti prima dell'incontro di ieri Sullivan aveva rilasciato un'intervista alla CNN in cui aveva esplicitamente detto due cose uno di essere certo che la Cina già sapesse prima dell'invasione che questa sarebbe avvenuta pur avendo qualche dubbio su cosa Putin possa aver effettivamente detto a Xi perché c'è una consistente probabilità che si aspettasse una durata molto inferiore del conflitto e che quindi questo potrebbe aver comunicato al suo alleato cinese e due che nel caso in cui la Cina aiutasse la Russia o economicamente o militarmente ci sarebbero da parte statunitense delle consistenti conseguenze per quanto non abbia specificato quali e queste parole più dell'intero incontro sono quelle che hanno occupato i giornali e l'attenzione internazionale perché molto del prossimo futuro e di quello che accadrà in questa zona d'Europa sarà la Cina a deciderlo paese che in generale si era un po' avvicinato a uno dei suoi rivali di sempre cioè la Russia prima dell'invasione infatti il 4 febbraio l'abbiamo già detto Putin e Xi avevano annunciato una partnership definita senza limiti e secondo il New York Times proprio in quell'occasione il leader cinese aveva chiesto alla controparte russa di aspettare la fine degli olimpiadi per dare il via all'attacco dallo scopio della guerra però la Cina ha formalmente ora lo vediamo mantenuto un approccio ambivalente ribadendo il valore della sovranità nazionale e dell'operazione diplomatica come via per uscire dal conflitto da un lato ma anche l'importanza di tenere in considerazione le preoccupazioni della Russia in merito all'espansione della Nato in Ucraina dall'altro e di fatto poi non ha mai condannato formalmente la Russia davanti alle Nazioni Unite astenendosi per ben due volte dalle votazioni in questione e non è nemmeno tutto qui e anzi è evidente che la posizione cinese così la diciamo tutta non sia affatto equidistante tra le parti ma proprio per niente in diverse occasioni infatti Pechino ha non solo anche incolpato gli Stati Uniti la Nato e la loro mentalità da guerra fredda ritenendo le responsabili dell'escalation dell'attacco di Mosca su Kiev ma si è proprio unita a Mosca nel cercare di dare credibilità alla propaganda russa ad esempio sostenendo una notizia falsa fatta circolare moltissimo in queste settimane cioè che il Pentagono starebbe finanziando la produzione di armi chimiche all'interno di laboratori in Ucraina e questo in qualche modo giustificherebbe questa azione di aggressione militare russa ma è tutto falso con peraltro metodi di controllo sempre da parte cinese non molto diversi da quelli messi in campo dalla stessa Russia con tanto di censura e dei messaggi di supporto alla resistenza ucraina quindi se siete cinesi non solo non potete criticare il vostro governo ma non potete nemmeno dire forza ucraina sostanzialmente quindi la Cina non è affatto ambivalente come vorrebbe far credere una cosa però su cui c'è un generale consenso è che questo conflitto possa rappresentare un'occasione per la Cina da un punto di vista economico infatti la Russia è strettamente legata al paese di Xi Jinping e questo vuole anche dire che dovesse questa uscire particolarmente malconcia dalla guerra in Ucraina Pechino potrebbe sfruttare questa dipendenza economica a proprio vantaggio soprattutto tenendo conto delle risorse naturali presenti in tutta la federazione russa mentre se dovesse effettivamente averla vinta la Russia anche se è difficile a questo punto e in generale per il paese non si prospetta di certo un futuro roseo la Cina comunque gioverebbe dell'eventuale indebolimento dell'Occidente obiettivo per il quale tanto si è lavorato negli ultimi anni ma che in questo momento sembra più lontano che mai insomma al solito io continuo a ripetere come un pazzo prima che vi stanchiate di me questa roba qui bene il focus sulla Russia molto bene attenzione alla Russia a quello che fa la Russia ai suoi bombardamenti e alle sue scelte ma ricordiamoci anche che in queste acque nuotano pesci altrettanto pericolosi se non più pericolosi e con ogni probabilità quello che succederà alla Russia e la risolutezza con cui l'Occidente continuerà a rispondere alle protese di Putin costituirà un esempio per queste altre dittature relativamente a quanto sia possibile tirare l'elastico prima che questo si spezzi perché sinora l'elastico è stato estremamente elastico tanto che nemmeno Putin e il suo cerchio magico i cosiddetti famosi silovichi parevano aspettarsi una reazione di questo tipo ormai è chiaro a tutti bisognerà vedere cosa succederà a sto giro tanto più che qualche segno di cedimento da entrambi i lati del conflitto piccoli 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 forse sembrano intravedersi ne parliamo nel secondo blocco anche oggi in chiusura cerchiamo di riassumere gli aggiornamenti chiave relativi al conflitto e stavolta è particolarmente importante fare il punto perché a 20 giorni dall'inizio delle ostilità 20 giorni sembra si stia arrivando a una nuova fase della guerra segnata da ulteriori escalation in zone del territorio ucraino che sinora in questo momento non erano state prese di mila dagli attacchi russi allora sino ad oggi gli scontri siano limitati alle parti est sud e nord del paese per i motivi che conosciamo mentre quelli che sino a questo momento erano stati risparmiati dagli attacchi peggiori erano invece quelli a ovest e la ragione se vogliamo è anche scontata sono quelli più vicini ai territori NATO e più i tuoi missili cadono vicini al confine più aumenta la probabilità di un errore più o meno voluto che porti uno di questi a finire oltre il confine diventando a tutti gli effetti un attacco contro uno dei paesi NATO quindi Polonia Slovacchia Ungheria e innescando quindi in automatico la reazione dell'alleanza come peraltro recentemente dichiarato esplicitamente proprio da Sullivan che citavamo poc'anzi che ha fatto capire chiaramente che qualsiasi attacco accidentale o meno innescarebbe una reazione però chiediamoci perché ci ha tenuto a specificarlo in risposta a cosa allora domenica scorsa siamo andati abbastanza vicini a questo scenario reattivo diciamo quando un attacco missilistico russo ha colpito una base militare vicina alla città di Yavoriv che si trova qui e che dista poco più di 15 km dal confine polacco che è pochissimo 15 km per capirci esattamente la distanza che c'è tra la fontana di Tere via Roma e l'aeroporto di Ciampino e quando questi attacchi vengono effettuati con mezzi non precisissimi come già accaduto in questa guerra il rischio è ovviamente alto anche se poi in sé per sé quest'attacco rappresenta già comunque di base un po' una provocazione per la natura dell'obiettivo attaccato diciamo una struttura nota come centro di sicurezza e peacekeeping internazionale in cui in passato truppe NATO hanno addestrato truppe ucraine durante esercitazioni programmate quindi sia chiaro non era una base NATO l'Ucraina non è un paese NATO ma è una struttura militare ucraina in cui in passato sono stati presenti degli operatori dell'alleanza atlantica come sempre accade in questi casi però i report di entrambe le parti quindi lato russo e lato ucraina differiscono un bel po' e mentre gli ufficiali ucraini riportano più di 30 vittime e 130 feriti in seguito all'attacco di cui la NATO specifica nessuno facesse parte delle loro forze che non sono presenti sul territorio il ministero della difesa russa assedisce invece che più di 180 mercenari esteri inteso come non meglio specificate forze straniere che combatterebbero in Ucraina siano stati uccisi e che la base sia stata colpita in quanto centro di smistamento di armi occidentali nel paese poi distrutta in seguito all'attacco peraltro in un'azione piuttosto coerente diciamo con le dichiarazioni del Cremlino di sabato quando era stato specificato che dora in poi qualsiasi spedizione estera di armi sarebbe stata trattata come un valido obiettivo di guerra la base di Iavori peraltro non è stato l'unico obiettivo un po' più ambizioso del solito tra quelli di essere colpiti diciamo perché già venerdì erano stati colpiti gli aeroporti di Lutsk e Ivano-Frankivsk qui e qui quindi molto più a ovest rispetto agli attacchi ai quali eravamo abituati sinora se quindi la Russia è in qualche modo diventata più aggressiva in una corsa contro il tempo che la vede competere con la crisi della sua economia che si aggrava di giorno in giorno perché la guerra costa comunque d'altra parte anche dal lato ucraino si crea qualche crepa e infatti notizia di oggi come Zelensky il leader ucraino durante una consultazione con Boris Johnson e altri membri della Joint Expedition Force cioè una forza di intervento militare formata da varie nazioni e guidata dalla Gran Bretagna abbia molto candidamente ammesso che l'Ucraina non solo non sia un membro della Nato ovviamente ma non possa neanche ambire ad entrarci aspirare a questa cosa ammettendo in un certo modo in diretto per ora che uno dei punti chiave che hanno guidato le deboli aperture della Russia al cessato il fuoco cioè la neutralità dell'Ucraina da quanto sul momento era stata rigettata con sdegno possa invece essere un elemento da prendere in qualche modo in considerazione in un modo o nell'altro un altro elemento in qualche modo nuovo del conflitto è come persino la stampa i giornalisti internazionali lì in loco dopo un'iniziale fase in cui sembravano operare in relativa tranquillità ora non vengono rispermette affatto e infatti saprete a questo punto che domenica Brent Reynaud un giornalista e documentalista americano che in passato aveva collaborato con varie testate internazionali è morto dopo essere stato colpito dal fuoco russo mentre assieme a un collaboratore che è poi sopravvissuto è quello del video molto diffuso in cui questa persona fornisce la sua testimonianza mentre è sdraghiata su un lettino di ospedale stavano assieme attraversando un posto di blocco a Irpin per filmare i civili in fuga quello che potreste invece ancora non sapere è che loro non sono gli unici perché le notizie di ieri come un corrispondente di Fox News Benjamin Hall è stato allo stesso modo colpito dal fuoco russo insieme al suo cameraman Pierre Zarzewski mentre entrambi viaggiavano in macchina ad Orenca che si trova qui alla periferia Nordicive sempre vicino a Irpin il cameraman non ce l'ha fatta a quanto pare mentre Hall è stato invece soltanto ferito e non si hanno dettagli precisi sulle sue condizioni mentre poi è emerso che una terza persona una giornalista ucraina abbia allo stesso modo perso la vita nell'attacco peraltro di ancora un'altra giornalista si sta parlando tantissimo stavolta di nazionalità russa ed è ovviamente lei Marina Ovskiannikova che ieri ha fatto irruzione durante la registrazione di un servizio della tv di stato russa Canale 1 in cui lavora nella gradazione o lavorava chi lo sa inneggiando alla fine della guerra e mostrando un cartellone che accusava la rete e la propaganda russa di stare mentendo i cittadini e che i russi fossero in realtà contrari alla guerra diversamente da quanto affermato dal canale anche perché ricordiamoci se non lo affermi puoi beccarti fino a 15 anni di carcere quindi un po' anche per sottolineare il coraggio che ci vuole per fare una cosa del genere nel senso la maggior parte di noi non ce l'avrebbe quel coraggio diciamoci la verità per capire il livello di paranoia censoria che sta vivendo la Russia in questo momento infatti basta vedere questo video dove una donna tiene in mano un cartellino microscopico con su scritto letteralmente due parole c'è scritto due parole in cirillico ovviamente e viene portata via in un attimo da un gruppo di agenti intenutati sommossa che peraltro arrivano a una velocità sconcertante sembra il videogioco cyberpunk e che poi portano via anche una seconda donna che non riesce nemmeno a finire la frase che ha iniziata a pronunciare insomma tornando alla giornalista di canale 1 è stata a quanto pare arrestata e benché avrebbe potuto essere processata in base alle nuove leggi di cui parlavamo poc'anzi pare sia stata invece soltanto multata per l'equivalente di 300 dollari con l'accusa di aver organizzato un evento pubblico non autorizzato e quindi rilasciata poco dopo ma non è chiaro a questo punto se poi in seguito dovrà affrontare anche delle accuse più serie dato che la multa si riferisce solo alla sua apparizione video e non alle cose che ha detto in quella apparizione video che in Russia da qualche giorno sono due leati molto diversi trattati in maniera molto diversa per il resto altra giornata del conflitto più social e allo stesso tempo più antico che si ricordi in tempi contemporanei andata con ogni probabilità un'altra notte ci aspetta di bombardamenti sinché effettivamente una delle due parti o entrambe non saranno abbastanza logore da rendere possibile un vero e proprio negoziato di altre strade al momento mi sembra che non se ne vedano e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato al solito non scappate oppure scappate per dirigervi a tutta birra verso il sito breakingitaly.club oppure lo trovate in descrizione e lì potete abbonarvi a Breaking Italy se potete farlo ovviamente se siete nelle condizioni di farlo ci dà un'enorme mano per quello che facciamo per il resto mi raccomando iscrivetevi schiacciate like se arriviamo a 100.000 views mi faccio c'è un milione di views mangio le polpette in live mentre vado su un monociclo non so cosa facciano gli youtuber attualmente fanno i balletti se facciamo un milione di iscritti faccio i balletti su TikTok TikTok Grazie.